Ciao a tutti amici di Tecno Android, oggi andremo a vedere come è possibile senza root, senza bisogno di permessi particolari, utilizzare più account whatsapp, più account facebook e di conseguenza messenger e altri applicativi senza cambiare dispositivo sullo stesso device. Per farlo l'applicativo del quale abbiamo bisogno, perdonatemi chiudo questo, si chiama Parallel Space è sufficiente scaricarlo gratuitamente direttamente dal Google Play Store, avviandolo, eccolo qui è Parallel Space, avviandolo dicevamo avremo la possibilità di scegliere cliccando su più quali sono gli account che ci interessa in qualche modo doppiare, ovviamente quelli consigliati immediatamente sono facebook, gmail, instagram, anche se instagram ora comunque offre la possibilità del doppio account, whatsapp, però possiamo anche andare a scegliere gli altri altri applicativi fra quelli che abbiamo installato sul nostro device. Io chiaramente sul mio smartphone ho già installato whatsapp, ma se scelgo appunto whatsapp verrà aggiunto al desktop di Parallel Space e andandolo ad aprire, aspettiamo un attimo, ecco qua, mi dice benvenuto su whatsapp, accetta e continua, basterà inserire il numero di telefono e ovviamente effettuare anche la verifica, questo chiaramente verrà fatto tramite la verifica, sarà un sms o una chiamata, quindi la scheda dovrà essere accesa su un altro dispositivo o su questo se è dual sim. Una volta effettuata questa procedura, whatsapp funzionerà semplicemente senza alcun problema, stessa cosa vale anche per messenger che non è qui consigliato, c'è soltanto facebook, ma andandolo ad aggiungere, eccolo qua, ci farà aggiungere anche facebook comunque ce lo consiglierà, eccolo qua, clicchiamo su aggiungi, apriamo messenger, io ovviamente ho già il mio account facebook configurato qui sopra, però aspettiamo un attimo, ecco qua, ti diamo il benvenuto su messenger, quindi potremo configurare anche un altro account facebook senza alcun problema e questo per tutti gli account che non dovessero essere disponibili ecco in doppio account sullo smartphone ma richiedono appunto una particolare configurazione. Bene amici TecnoAndroid, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo tutorial, ciao a tutti!